Antonio abbiamo fatto questa presentazione o meglio questo incontro con diverse persone per parlare di social e responsabilità che è il tema del tuo libro, il tema che ti è molto caro. Dicci te in tre parole responsabilità nei social, nelle piattaforme, nell'impegno quotidiano. Io direi che abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme e quindi di questo non posso fare altro che ringraziarti e credo veramente che il tema della responsabilità innanzitutto personale cioè il fatto che ciascuno di noi non è obbligato a comportarsi male, a essere schiavo di un algoritmo ma semplicemente può dire la propria in modo civile, ordinato, gentile, educato, fermo e cortese. Una serie di aggettivi che significano la capacità di un rapporto con gli altri, a questo devono servire i social. Che noi abbiamo detto durante l'evento con gentilezza e coraggio, cioè la gentilezza del linguaggio, dell'incontro e il coraggio di dire le cose come stanno, di affrontare la realtà. E' così, il punto sostanziale è quello che io amo dire in tutte le presentazioni, come dice il paragrafo del libro, l'algoritmo sei tu. Cioè sei tu che puoi determinare il modo con cui stai appunto nei social e quello che i social ti riportano indietro.